Siamo oggi con Michele Schiano, il bravo regista di Ischia ormai adottato dal Matese per un incontro davanti a un caffè, ma soprattutto per capirne di più di Michele Schiano. Il caffè si sa è una scusa come ripeteva spesso Luciano De Crescenzo, ma chi è Michele Schiano e come nasce la sua voglia per il cinema? Allora io sono sempre stato appassionato del cinema e già da bambino mi cimentavo a organizzare commedie, cose che mi hanno spinto poi a tuffarmi in quello che è il cinema e quindi è una situazione che forse l'ho da prima di me stesso, se si può dire. Sandy, Clarus il tuo cortometraggio girato da Liffe ha superato l'esame, è il caso di dire qualche giorno fa hai approdato in Rai un bel successo, che dire? Noi facciamo le cose, parlo per quanto riguarda gli artisti, i registi, gli attori, non per tenerle in un cassetto ma per estenderle a un pubblico più ampio e questo è solo l'inizio perché i nostri obiettivi vanno ben oltre una trasmissione e quello appunto di fare cinema e stare nelle grandi sale cinematografiche. Chi è Clarus in sintesi? Clarus inteso come personaggio è un vescovo vissuto ad Alife tra il 300 e il 400 d.C. ed è stato un punto di riferimento per la comunità alifana. Per quanto riguarda il cortometraggio rappresenta un sogno tra leggenda e storia di questa meravigliosa cittadina dell'Alto Casertano che è Alife che vedrà appunto Marco, una giovane guida turistica, viaggiare appunto nel passato per conoscere queste storie, questi aneddoti veramente particolari. Sandy, dopo Clarus oltre la notte, un bel documento fra sogno e realtà che è già stato fatto, ci vuoi spiegare come nasce e che cos'è esattamente? Oltre la notte è un voler dare voce alla grande voce di Enrico Caruso, un mondo che collega appunto la nostra notte, quella del Covid, con quella di una voce che richiama appunto il giornalista Lorenzo Applauso, in un quasi sogno dove incontrerà appunto Caruso, dove incontrerà i genitori di Caruso prima di lasciare Piedimonte Matese. È una cosa che consiglio a tutti di vedere perché ha delle note di emotività. Senti, a breve si parla di un nuovo lavoro molto affascinante a Liberi e a giorni dovrebbero iniziare le riprese. Ci puoi dire qualcosa, anticipare qualcosa? Sì, parleremo di un santo. In realtà Liberi è la terra di più santi, però noi senza dire di chi parleremo di una figura veramente bella, che è un po' stata depredata di quella che era la sua vera essenza. Cercheremo con grandi attori di raccontare appunto la storia di questo uomo che ha fatto tanto per Liberi e soprattutto che ritornerà con questo progetto giornalistico artistico nella terra di Liberi. Ecco, tu sarai regista, ci puoi anticipare il nome di qualche attore? Allora, tra i tanti attori che parteciperanno appunto a questo progetto, avevo pensato di chiamare più che un'attrice una grande amica, ha fatto parte dell'Amica Geniale, Sara Falanga, la signora Carracci nell'Amica Geniale. Ci sarà Daniele Lizzambri che appunto ha partecipato anche a Clarus e sicuramente gli altri devono essere una sorpresa, anche per il pubblico, no? Certo, vogliamo sottolineare che forse c'è sicuramente il padrocinio della Proloco e del Comune di Liberi. Sì, è bello abbracciare queste iniziative anche perché è un periodo difficile e per realizzare queste opere purtroppo oltre ai sogni, oltre alla scrittura c'è bisogno anche un po' di concretezza. Volevo ricordare ancora una cosa che questa terra mi ha dato appunto la possibilità di conoscere un attore che è Pier Giuseppe, Pier Giuseppe che sicuramente sarà nel progetto a cui appunto affiderei proprio il compito di interpretare questo santo. Grazie allora Michele Schiano, alla prossima! Grazie! Grazie!